La città è in lutto per la perdita di Aldo Garozzo, le condiglianze della politica. Mancheranno il suo contributo di idee e l'impegno per una città sempre protagonista. Con queste parole il sindaco di Siracusa Francesco Italia commenta la scomparsa di Aldo Garozzo. Dopo essere stato un importante manager industriale, Garozzo ha messo la sua esperienza al servizio del territorio e del mondo delle imprese. Ne ricordiamo la passione con la quale si è speso nella difesa della Camera di Commercio e di recente per il nuovo ospedale. La famiglia in particolare ha la figlia Cristina, ex consigliere comunale, il cordoglio personale dell'amministrazione della città. La scomparsa di Aldo Garozzo priva la nostra comunità di un uomo brillante e pragmatico, qualità queste che unita all'indiscusso spessore umano hanno reso Aldo l'indiscusso protagonista della politica industriale e territoriale, così in una nota l'ex sindaco Fausto Spagna. La sua capacità di analisi e di ricerca immediata della soluzione, con un approccio che tenesse conto delle ragioni del territorio e dei lavoratori, lo rendevano riferimento irrinunciabile per chi di questo territorio si occupasse a qualsiasi titolo. Lo ha sempre testimoniato, da industriale come da presidente dell'autorità marittima, stando vicino ai territori e con enorme rispetto ai lavoratori e delle imprese. È stato vero interprete di una politica industriale volta a creare occupazione e sviluppo senza mai colonizzare i territori, prosegue Spagna. Perdo un vero amico che da sindaco e da deputato ha costituito l'unica pietra angolare per una discussione vera e franca sui problemi della zona industriale siracusana, conclude Spagna. Sono affettuosamente vicini a tutta la famiglia, Siracusa perde un riferimento solido, certo ed irrinunciabile. Prestigio Giacomo è un dolore personale che è difficile esprimere con parole. La scomparsa di Aldo Garozzo rappresenta per la nostra comunità la perdita di una persona speciale, un manager che ha dedicato la sua vita al nostro territorio con passione e immensa professionalità. È stato un protagonista dello sviluppo industriale del siracusano nei diversi ruoli che ha ricoperto con incensività e visione prospettica. Sono orgoglioso di averlo proposto come presidente dell'autorità portuale di Augusta grazie a lui riconosciuto come portocor dell'Unione Europea ed è stato per il mondo imprenditoriale un grande presidente di Assindustria. Per chi come me gli è stata amica, alleata in tante battaglie, un dolore personale che è difficile esprimere con parole. La sua umanità, la sua intelligenza, la sua ironia resteranno nel cuore di chi gli ha voluto bene come un dono indimenticabile. Nicita, il suo impegno per il territorio e la curiosità intellettuale. Apprendiamo la triste notizia della morte di Aldo Garozzo, manager e dirigente di grande capacità, apprezzato da tutti per la sua capacità di analisi e il suo impegno per il territorio. La curiosità intellettuale, tra i numerosi incarichi, quello di presidente di Confindustria e Siracusa. Recentemente abbiamo avuto occasione di condividere alcuni ragionamenti sul futuro della politica portuale nella Sicilia orientale. A nome mio personale del Partito Democratico della provincia di Siracusa ci stringiamo ai familiari nel ricordo di Aldo Garozzo. Marziano, fattivo protagonista dei processi economici del territorio. Con Aldo Garozzo va via un importante protagonista della vita economica del nostro territorio. In ruoli apicali nel polo industriale, come all'autorità portuale e in Confindustria, è stato determinante, appassionato e fattivo protagonista dei processi economici senza trascurare la responsabilità verso il territorio. Nell'inviare le mie condaglianze alla famiglia, lo ricordo sincero e leale interlocutore nei momenti di confronto e collaborazione. Milazzo, capogruppo, gruppo consigliere del PD al Comune di partita di Aldo Garozzo. A nome mio personale del gruppo consigliere del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Siracusa, costituito con i colleghi consiglieri Sara Zappulla e Angelo Greco, manifesto il cordoglio per la scomparsa del dottor Aldo Garozzo. Personalmente ho avuto il privilegio di aver conosciuto Aldo parecchi anni addietro, di essergli stato amico e di averne apprezzato le straordinarie doti di intelligenza e di analisi, di managerialità, di comunicazione e di naturale empatia. Ricordo in particolare le lunghe e appassionate conversazioni sul futuro della zona industriale, sulla strategicità del traffico via mare e della portualità sulla Camera di Commercio. Aldo Garozzo ha creduto nelle potenzialità produttive e del sviluppo di Siracusa e nei diversi e prestigiosi incarichi ai quali è stato chiamato. Si è sempre battuto per salvaguardarle. Il gruppo consigliare del PD formula le più sentite condiglianze alla moglie e ai figli, consapevole che la scomparsa di Aldo Garozzo priva l'intera città di una figura di riferimento. Alessandra Furna è il Presidente Provinciale d'Italia Viva a Siracusa. Con la scomparsa di Aldo Garozzo Siracusa perde un figlio nobile e con le sue competenze imprenditoriali ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico della città e della provincia intera. Mancheranno tra le altre la sua capacità di analisi dei processi sociali ed economici, la sua operatività, la sua tenacia nel condurre battaglie importanti per la difesa del nostro territorio. Mancheranno altresì la sua intelligenza, la sua lungimiranza e la sua sagancia ironia. La comunità di Italia Viva sostinge alla famiglia Garozzo in questo momento di profondo dolore.